Che mostra, manca solo un negozio di souvenir. C'è qualcosa che non va. So che ha del risentimento per me, ma... Non mi dire, tu credi. Io sono Oswald, mi occupo di rifiutolandio, almeno lo facevo. Un tempo ero molto conosciuto, era una star, finché tu non mi hai soppiato il posto, topastro. Il mio nome è Topolino. Oh, credimi, lo so bene. Il tuo nome e la tua faccia sono su tutta questa robaccia. Per anni ho osservato questa montagna di ciaffusaglie, chiedendomi perché tu hai avuto il successo che aspettava a me. Per molto tempo ho cercato di fare del mio meglio, ho cercato di creare un posto accogliente per tutti i personaggi dimenticati. Soprattutto per la mia amata Hortensia e per i nostri coniglietti. Ce la cavavamo bene fino all'isastro. Che coniglio pasticcione, meglio dare una ripulita. Il disastro ha liberato macchioniere, lo scienziato pazzo si è unito a lui. Che cosa stai guardando? Niente, nulla di importante. Ho visto la casa di Hortensia, cosa le è accaduto? Come hai detto tu, nulla di importante. Che ti importa? Tu hai già tutto quello che ti occorre, un cuore. Un cuore? I personaggi dimenticati perdono il loro cuore. Chi non ha un cuore non può andarsene da qui. Io avevo un cuore finché tu non mi hai rimpiazzato. Per questo tu mi hai rapito? Per rubarmi il cuore? Non io, sono stati macchie nero e lo scienziato pazzo. Io non ti voglio qui, preferirei che te ne andassi. Eh? A dire il vero tu hai ancora un cuore dopo. A Tomorrow City c'è Raz Luna Express. Possiamo volare via da Riffiutolandia. Incontriamoci a Tomorrow City e decolleremo. Ma Oswald, senza un cuore non possiamo andarcene. Grazie a tutti.